ragazzuoli e ragazzuoli bentornati su parliamo nerd bentornati in questo terzo episodio di nba 2k 23 e dove c'eravamo lasciati avevamo fatto un po di cosette in realtà tra l'intermezzo tra il secondo e questo episodio ho fatto altre cose siamo diventati praticamente influencer di moda abbiamo affermato quasi affermato il nostro marchio mp come potete vedere appunto qui dietro dietro a me apparirà un gameplay emozionante abbiamo fatto delle sfide per poter ottenere vari pezzi tipo le nuove air jordan limited la maglietta quella che vedete orribile i pantaloni tutte queste cose qua abbiamo fatto varie sfide tra tiri liberi eccetera eccetera e in più abbiamo fatto anche delle battaglie rap ragà delle battaglie rap cioè sentite qua roba veramente seria cioè proprio fuori di testa e abbiamo inciso la nostra la nostra prima hit che deve essere pubblicata appunto prossimamente e dobbiamo andare a giocare delle partite per far sì che il nostro progresso nel settore della moda nel settore della musica e anche nel settore della fra virgolette finanza riesca ad arrivare a un livello top quindi ovviamente prima di andarci a buttare sulle prossime partite nba sugli allenamenti voglio fare vedere un po di cose in questo episodio beh ovviamente devo lanciare prima la nostra sigla allora eccoci qua eccoci qua ragazzuoli praticamente vi faccio vedere subito come siamo piazzati a livello di missioni dobbiamo fare una sfilata pre partita con gli indumenti che abbiamo in questo momento ossia queste cose qua cioè questo questo questa camicia inguardabile questo pantalone che ho dovuto scegliere perché se no era un pantalone tipo ancora peggio della camicia e le air jordan che sono l'unica cosa figa praticamente in questo momento poi abbiamo conquista distretti degli affari qui ci sono delle sfide dobbiamo conquistare i nostri distretti vincendo delle partite appunto outdoor delle partite da da ghetto tra virgolette con i vari boss campioni della zona e vedi infatti gioca partita con tyler hero e most point a most point ok qui abbiamo per andare avanti vai al campo per giocare la tua prossima partita nba e abbiamo come come missione principale l'intrigo a corte che dobbiamo praticamente fare altre due partite e attivare altre due volte l'abilità di leadership vi faccio vedere come l'allenamento è fondamentale da fare sempre ogni giorno questo è da fare sempre raga tentando di prendere sempre più stelle possibili all'allenamento questo consentirà di sbloccare altre altri bonus allora andiamo dal nostro tipo mp wow bello vederti ok e allora qui abbiamo esercizi barclay birkley barclay burkley a difficoltà normale e a difficoltà difficile a difficoltà normale le avevo finiti devi raggiungere ovviamente i sette su sette con tre stelle e a livello difficile non è così semplice allora qui abbiamo percorso veloce in palleggio conclusioni con affaticamento sfida rimbalzi zona calda passaggio icona allora intanto proviamo passaggio icona allora trovo il compagno smarcato e passagli la palla usando scegli passaggio passaggio corretto 50 a meno 25 il il passaggio che lui intende con l'abilità scegli passaggio si fa con rb o r1 e ci consente di visualizzare sopra ogni nostro compagno un tasto del joypad così da poter fare il passaggio precisamente a quel compagno e non in automatico dal al più vicino cliccando semplicemente a o x quindi adesso vi faccio vedere allora qui dobbiamo cercare il passaggio smarcato e la x quindi avere un buon occhio un buon occhio per capire qual è il praticamente il compagno smarcato e farlo nel più breve tempo possibile quindi velocemente è sempre b credibile non cambia mai ok è x un segno con ho preso due stelle quindi non so come sia possibile ne ho sbagliato solo uno vabbè una partitella tre versus tre questa dobbiamo vincere facendo un sacco di punti ok buono due stelle ci abbiamo 26 secondi raga 26 secondi è che pure questa visuale non aiuta molto è cerchiamo di coprirlo madonna come l'ha messa madonna come l'ha messa niente due stelle vabbè meglio di una meglio di una allora qui è impostata in maniera diversa gli allenamenti rimasti gli allenamenti sono sempre gli stessi la tipologia degli allenamenti solo che qua andrà a a impattare molto di più sulle nostre sui nostri punti distintivo dove abbiamo dove vorrei raggiungere tre stelle sono appunto è il tiro quindi vorrei cercare di fare tre stelle su tipo tiro con strappo che mi sembra difficile non me lo ricordo però mi sembrava difficile tiro con strappo a 10 da te per realizzare più tiri in sospensione possibile dal gomito dopo la ricezione posizionati sul gomito e tira dopo ogni tentativo torna al centro per del perimetro per ricevere il passaggio mi sa che non riesco a prendere delle stelle e niente due e sbatte ma com'è possibile intanto gli skate invisibili che si muovono ok ok qui dobbiamo fare la nostra passerella e abbiamo tutto quello che ci serve quindi in realtà qua noi ci facciamo pure la camminata da ottimista tiè io bitch io bitch tiè guarda che roba ti sfondo ti sfondo ti sfondo ti sfondo ti sfondo yeah ok allora benissimo abbiamo preso i nostri punti siamo altamente fuori casa di casa siamo in uno svantaggio incredibile dobbiamo vincere perché siamo secondi nelle classifiche sto facendo cacare non so per quale motivo ci andrà malissimo questa partita già lo so ma andiamo buono è nostra allora iniziamo subito con un bel piccherollone oh madonna bello non è la tua giornata amico madonna come lo mette questo come lo mette smarcato smarcato vai che bello vai che bello che inserimento assist lì boom entro e boom sotto mano perfetto aspetta che mi devo recuperare questo è un inserimento però sempre occhio alla stamina sempre occhio alla stamina io mi sono fermato perché dovevo rallentare perché se avessi preso palla nel momento in cui stavo così male fisicamente non avrei mai potuto segnare bello mamma mia la bellezza in un gesto la bellezza in un gesto avete visto che roba mamma mia mamma mia come gliel'ho stoppata come gliel'ho stoppata madonna esplodo mi ha cambiato porca ma porca puttana volevo fare il finale cioè a 22 secondi mi cambi sei una merda dai sei una merda mi volevo giocare il finale vabbè 89 79 va bene ho fatto una partita della madonna sì speriamo si smetta di parlare solo di me no la leadership va esibita sempre non solo quando stai già vincendo boom non necessariamente la leadership va mostrata costantemente man non solo quando le cose vanno bene quindi se posso io stesso impegno la stessa determinazione la stessa energia quando le cose vanno male allora sì che sarà una gran cosa a quel punto sarò un vero vero fucking leader grazie grazie amico grazie andiamo se ne va allora quel pezzo che hai fatto con Dimo è uscito da nulla parlacene un po' non proprio da un po' che ci sta devo tenerti sulle spine dai devo tenerti sulle spine non posso dirti cosa bolla in pentola appena pensi di aver capito tutto boom devo andare wow ma guarda quanto è sicuro di se stesso questo pezzo di merda allora c'è un albero in preparazione un albero in preparazione non saprei che dirti però posso dirti che qualche settimana fa pensavo di essere solo un giocatore in basket e poi butto giù quel brano e dimostro di saperci fare fino col microfono e adesso sei un brano ma che cazzo ehi lei ma che cazzo magari passare un pomeriggio in studio mi aiuta anche sul campo no che dici sono più rilassato rispirato e poi il basket è un gioco fatto di ritmo ritmo cazzo che male può fare passare un po' di tempo a creare musica oggi è carico a pallettoni gente mi piace quello che dici mi piace quello che dici se dovessi produrre altra musica sai che The Mix è il posto giusto per te peace and love bitch bene boom intervista della madonna coach graves vuole vederti vai al suo ufficio negli spogliatoi beh 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 la city è piena di sorprese la city è piena di roba di roba sostanziosa capite capite c'è roba importante roba seria cioè questo gioco è incredibile io non so veramente non so come si fa a valutare io vedo certi city che l'hanno valutato male sei sette e mezzo cioè questo è un gioco di basket e fai talmente tanta roba che a volte ti dimentichi di stare a a fare un un qualcosa che è inerente simulazione sportiva è assurda questa cosa veramente assurda io spero che tutti possano prendere ispirazioni da NBA 2K per fare un gioco sportivo almeno per fare una carriera FIFA ci ha provato non ci riesce tutti gli anni non ci riesce io non so che dirvi sarà lo spirito americano sarà lo spirito yo man a fare questo e tutto questo contorno però bravi bravi io continuo a dirlo giocare ti viene sempre più voglia di andare avanti nella storia di fare tutte le attività collaterali ti viene sempre più voglia sta diventando una cazzo di droga ormai gioco come vedete anche non registrando i video perché ovviamente non voglio tediarvi con 48 episodi sulla carriera voglio farvi vedere i punti salienti vedete abbiamo visto come abbiamo chiuso un brano rap abbiamo visto come ci siamo affermati nella moda vedremo poi come ci affermeremo anche nell'ambito umanitario finanziario e cercheremo poi di vincere il nostro il nostro campionato East Coastman che dire dobbiamo arrivare in vetta dobbiamo arrivare a essere il giocatore migliore della Lega quindi noi ci rivediamo al quarto episodio sempre qui su Parliamo Nerd mi raccomando fatemi sapere tutto se volete avere dei consigli sul gameplay ovviamente cercherò nel mio piccolo di darli per quel che ho capito io giocando queste alla fine mediamente poche ore e quindi scrivete nei commenti tutto qual è la vostra build che giocatore avete preso come l'avete creato che distinti vi avete usato insomma voglio sapere veramente tutto perché sono curioso anche di fare dei confronti con la con la build che sto portando avanti con Philip Eggsy quindi ragazzuole e ragazzuoli mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire questa serie e tante altre che verranno perché ne verranno tante altre cliccando ovviamente sul cazzo di campanaccio che vi consente di seguire e non perdervi nessun video futuro e noi ci vediamo semplicemente alla prossima ciao ragazzi ciao